Ciao a tutti, esiste davvero la telepatia tra innamorati? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Allora, che cos'è la telepatia? La telepatia è la capacità di trasmettere delle sensazioni, delle informazioni che però si manifestano non attraverso immagini, si possono manifestare attraverso sogni, si possono manifestare attraverso delle sensazioni particolari, un certo sensazione proprio accettive, sentire qualcosa allo stomaco, attraverso immagini mentali, attraverso un'intuizione, diciamo così. E quindi è una trasmissione energetica che avviene costantemente, cioè non è un qualcosa di particolare, la nostra energia si trasmette, le nostre intenzioni si trasmettono, i nostri pensieri si trasmettono. Soltanto che A, come dire, spesso non vengono recepiti, B, spesso vengono trasmesse delle cose che non sono propriamente, diciamo così, univoche, perché i pensieri, ci sono dei pensieri divergenti, come se ci fossero delle onde in interferenza, tendono a, diciamo, tra di loro, tendono a perdersi, tendono a dissiparsi. E questo è un dato di fatto, comunque, che questo accada. Per evitare, diciamo così, che accadano cose di dispersione, bisogna diventare, prestare più attenzione. Quindi la telepatia è un qualcosa che esiste comunque. Immaginate una stanza dove c'è una persona che recita un mantra, il messaggio telepatico, ma in quella stessa stanza c'è chi fa casino, c'è una batteria che suona, musica a palla, gente che urla e tutto. Fintanto che non zittisci tutto il resto, non sentirai mai la persona che recita il mantra. E così avviene nella telepatia. Noi nella nostra testa spesso abbiamo un sacco di informazioni a cui non abbiamo la sensibilità di prestare attenzione a quello che proviene dal nostro profondo. E così i messaggi che arrivano non si manifestano. È ovvio che tra innamorati o tra persone che hanno un forte legame, un forte legame affettivo, non è soltanto l'amore sentimentale, ma in persone che hanno un forte legame affettivo, questo messaggio arriva più forte. Perché tra queste due persone c'è un entanglement, c'è una correlazione, c'è una sorta di unione. E questo cosa comporta? Beh, comporta un fatto interessante. Comporta il fatto che praticamente tu entri in uno stato di maggiore recettività è il messaggio che contemporaneamente arriva più forte. Quindi spesso tra persone che c'è questo forte entanglement, si hanno delle percezioni. Si hanno delle percezioni e non tutti ce l'hanno, ma più forte è il legame e più forte è l'entanglement, più questo diventa inevitabile. Poi alcune persone non riescono a decodificare, non riescono a capire. E questo è un altro problema che spesso ostacola la comunicazione telepatica, il fatto che a volte le persone non riescono a, diciamo, a cogliere questi messaggi, a decodificarli. Però questo è un altro tema. Però sicuramente la telepatia tra persone che sono in contatto, diciamo così, telepatico tra loro, in contatto emotivo, in entanglement, la comunicazione telepatica è molto più forte. È comunque una capacità dell'essere umano questa. Alcune popolazioni l'hanno sviluppata tantissimo, come ad esempio gli aborigini australiani si dice, che un tempo perlomeno erano in forte contatto telepatico. Poi magari oggi sono stati, come dire, corrotti dall'alcol occidentale, magari le cose sono molto diverse. Però tutte le popolazioni al contatto con la natura hanno saputo sviluppare bene questa capacità. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.